Siamo in via Senofonte 2 a Milano, adesso andiamo a vedere un attico di Zara Adid progettato da lei Stamani invece sono stato in Samsung e ci tornerò settimana prossima, se riesco farò un vlog Le stampanti nuove sono veramente belle E poi restate sintonizzati su questo canale perché a breve rilascerò anche la recensione delle Airpods Che finalmente sono arrivate, ce l'ho pure qui in tasca e sono eccezionali Grazie per la visione! 350 metri di appartamento Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Sono appena rientrato a casa, la visita si è conclusa circa tre orette fa, è stata veramente interessante, abbiamo visitato questo attico Nel complesso ideato e progettato da Zaha Adid che è un'architetta iraniana purtroppo morta l'anno scorso per un infarto e non ha potuto vedere la sua opera compiuta Ci sono ancora i lavori nel quartiere di City Life Milano e nascerà a breve un altro edificio nel quale si insedierà generali le assicurazioni Mentre accanto abbiamo Allianz e tra l'altro proprio quest'anno più di 3000 dipendenti si trasferiranno lì dentro L'area è un'area di emissioni zero, infatti anche l'area che si respira è molto pulita devo dire pur essendo Milano relativamente vicino al centro Ci arriva la linea Lilla, quella diretta poi a San Siro ed è molto comodo da raggiungere in metropolitana L'appartamento che abbiamo visitato è di 350 metri quadri su due livelli L'arredo è fornito insieme all'appartamento e pensate che ha un costo di 4 milioni di euro In più le spese condominali ammontano a 50 euro al metro quadro Quindi essendo 350 in metri totali siamo a circa 17.500 mila euro l'anno solo di spese condominali Sono delle cifre abbastanza importanti Il legno invece che vedete sulle facciate che avete visto anche lungo la passerella che porta poi alla terrazza e alla veduta È un legno che viene lasciato andare e di vari colori sono proprio naturali del legno stesso Non vengono trattati e non viene manutenuto Ritengono che questo legno possa durare anni e quindi non abbia bisogno di interventi Lo scopriranno i condomini Gli appartamenti totali sono 500, al momento 100 sono ancora sfitti Le dimensioni sono da bilocali a plurilocali Quello lì che abbiamo visto noi è in vendita Quindi se qualcuno dovesse essere interessato commenti pure questo video che lo metto in contatto con l'agenzia Sto scherzando, comunque facciamo una domanda seria A chi piacerebbe vivere in un quartiere del genere? Commentatemi qua sotto Adesso vi ringrazio per la visione È stato un piacere condividere questa esperienza in questo attico di City Life Per qualsiasi domanda, chiarimento o informazioni sulle visite commentate che vi mando i riferimenti della guida Che è stata molto brava e preparata E ci vediamo presto con il prossimo video Ovviamente iscrivetevi per non perdere le novità E mettete un bel mi piace Prossimamente, come anticipato, il video delle cuffiette di Apple Finalmente ce l'ho Ciao a tutti